Al culmine dell'ennesima lite con i genitori ha aggredito a schiaffi e pugni la madre minacciandola con il collo di una bottiglia di vetro. Un 38enne è stato arrestato dal personale della squadra volante del commissariato di Corigliano Rossano con l'accusa di maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, che ha precedenti per reati contro la persona, preso da un forte stato di agitazione e ira, malgrado la presenza dei poliziotti intervenuti in soccorso della donna ha continuato ad opporre resistenza, minacciando ancora la madre che successivamente è stata affidata alle cure dei sanitari giunti con un'ambulanza. L'atteggiamento aggressivo e violento del 38enne è proseguito anche negli uffici del commissariato, dove è stato condotto prima del suo trasferimento nel carcere di Castrovillari. Il provvedimento di custodia cautelare è stato disposto dal GIP su richiesta della procura della città del Pollino.